Ricordo che verrà effettuato un minuto di silenzio per la scomparsa del mister Pena Rossa Bobo Gore che noi rispettiamo con il doveroso silenzio. Termina il minuto di silenzio. La partita appunto è iniziata proprio in questo istante come potete vedere c'è il possesso palla. Via nuova rimessa laterale proprio per la fiorita russo. Gioco di gambe la deve coprirla. Mette in mezzo sul primo palo. Blocca. Bene. Porcellini. Palazzi. L'amati. Due uomini in barriera dentro a cercare un compagno sul secondo palo russo. È leggermente in ritardo. Può avanzare Gasperoni. Gasperoni. Se ne va via in velocità. Gasperoni ne salta tutti praticamente. Largo per Pancotti. Potrebbe mettere il traversone in mezzo. Attenzione Russo. Anzi no. Sembrava l'illusione del gol. Palazzi. Ciao. Lì. Accanto a sei amati. Lo chiamo in causa. Gasperoni. E lui dell'intervento del sudore. Traversone con una finta. Traversone dentro. Il pallone lì. Fuori di pochissimo ancora. Russo. Cessione. Pallone lì. Pancotti. Ci prova. Sul palo però è attento. Porcellini. È lì nel mezzo. Però fatica. Il numero 10. Questo consente alla fiorita di poter beneficiare di un'altra azione interessante. Russo. Russo. Attenzione. Ancora. Il tocco lì. Davanti al portiere. Questa volta c'era l'offside. Ravvisato. Qua a Domagnano. Ora c'è questo giro. Palla. Sbaglia però Borioni. Attenzione. Ora può ripartire Amati. Amati. Potrebbe darla. La Danico Frutti di Rinaldi. Ancora il pallone dietro. La sfera ancora lì. Lunadei. Prova il tocco. La palla arriva a Pancotti. Ancora un ribatto. Batti e ribatti. Alla fine addirittura c'è la ripartenza per Terensi. Terensi profondo a cercare Calemi. Ancora una volta. Però vivano. E attento. Sbaglia. Incredibile. Ma ci prova. Lunadei sul primo palo. Rimangono dietro solo Gasperoni e Greco. Attenzione. Pallone dentro di Palazzi. Ci arriva stavolta fatica. Ma la palla è alta. Anzi. È stato un tocco da parte di uno giocatore del Faitano. Quindi nuovo. Calcio d'angolo. Anche sul primo palo Brighi. Lì Lunadei. Avete visto. Ci riprova sempre sul primo palo. Esce Porcellini. La palla. Lì Pancotti. Il tiro. La rete. La rete. La sblocca. La fiorita. Proprio al 44esimo. Su questo calcio d'angolo. La ribattuta. È stata perentoria da parte di Pancotti. Che al 44esimo ha trovato la giocata vincente. Ora è rifarsi. Il Faitano che fino a questo momento aveva comunque retto bene il campo. Vediamo quale sarà la reazione. Pini. Pini prova il traversone in mezzo. Vivan. Blocca. Senza problemi. Brighi di testa. Ancora ci prova però il Faitano. Ferrari. Ferrari. Una buona opportunità. dentro. Il pallone. Grande. La sortita offensiva del Faitano che proprio sul finale di primo tempo ha avuto l'occasione. La partita qua a Domagnano. Attenzione. Gioco di gambe. Pallone dentro. Ferrari. Allontana la fiorita. Il pallone ancora lì. Alto. Clamoroso. Di destra. Pallone dentro per Pancotti. Ancora Brighi però. Può servire ancora una volta a Gasperoni che è rimasto lì. Alto. Traversone. Attenzione. Il pallone lì. Riesce a farlo suo con in due circostanze. Porcellini. Proprio all'eterzino. Pallone dentro. Attenzione. Della Valle. La palla è lì. Russo. Attenzione. C'è l'intervento da Tergo. Da parte di Della Valle. Quindi c'è il calcio di rigore. Amati contro Porcellini. Va. Il numero 21. Attenzione. La parata di Porcellini. Sulla ribattuta. Ancora Porcellini. incredibile. Straordinario. L'intervento di Porcellini. Che per ben due volte ha detto di no ad Amati. Che miracolo. Gentili amici di Tali TV. Vediamo quale sarà la reazione ancora a Porcellini. Con i pugni. La palla è ancora lì. L'una dei prova. Russo. 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 Ancora un intervento. Ancora un calcio di rigore. Ancora della Valle. Ancora su Russo. Incredibile quello che sta succedendo. Palazzi contro Porcellini. Cambiano gli interlocutori. Vedremo se cambierà il risultato. Va. Palazzi contro Porcellini. Il tiro. La rete. Segna Palazzi al cinquantacinquesimo. Certamente un sostanziale equilibrio. Attenzione. Attenzione. Perché Russo. Russo ha ancora una buona opportunità. Porcellini però. Vediamo. Calcio d'angolo ancora. Sul secondo palo. Arriva ancora Porcellini. Incredibile. Ancora grandissima la parata di Porcellini. Attenzione. La sfera ancora lì. Rovesciata di Russo. Davvero molto ispirato. Vediamo. Pallone sul secondo palo. La palla è ancora lì. Pancotti di testa. Prova a toccarla. Poi successivamente arriva Semprini. Il tiro alto. Di pochissimo. Gran conclusione questa. Nuovo ad appannaggio della Fiorita. Gran giocata della Buzianne. Pancotti. Può allargarsi. Stagliano. Ancora Gasperoni. Vediamo. E lui dell'intervento del suo diretto avversario. Gasperoni prova il tiro. Fuori. Di poco. Ma solo fatica a saltare. Attenzione. Sul. C'è il colpo di testa. Sì. Ma blocca senza problemi. Ora ci prova ancora il Faetano. Prova la conclusione. Il numero 16. Renzi. Buona questa conclusione di Renzi. Brighi che fatica. Vediamo. Il pallone è già battuto. La palla è per Pancotti. Pancotti. Traversone dentro. La sfera è lì. Attenzione. C'è ancora Porcellini che è andato in uscita. Abuziano e sul secondo palo. Rinaldi traversa. Traversa di Rinaldi. Ancora una grande occasione. Vediamo. Mema. Mema. Prova a mettere il traversone in mezzo. Brighi. Ripiegamento difensivo. La palla è ancora lì. Vediamo. Seguiamo. Mema. Limite dell'aria. Entri in aria proprio adesso. Defilato. Prova la conclusione. Da difficile posizione. Però si ha provato. La Fiorita ha avuto la capacità di gestire bene questa gara. Viene ora ancora avanti. La squadra di Motogiardino. Gran bel possesso palla. Semprini dentro. Il pallone è ancora lì. Abuziano. Potrebbe provarci. Abuziano. Se ne va via in velocità. Dentro con il pallone. Tira la rete. Ha segnato Pancotti. E finisce così. Proprio. La sfida finisce con un rotondo 3 a 0 della Fiorita sul Faetano. Questa è un'altra. Grazie a tutti.